ciao a tutti allora io oggi non avevo registrato perché volevo un attimo recuperare un po di giorni di distanza tra quando registro il video quando online eccetera però poi siamo andati a fare la spesa abbiamo fatto un boato di spese quindi mi sono detta non possono far vedere tutta la spesa che abbiamo fatto ed eccomi qua quindi abbiamo speso 100 euro alla coppia abbiamo comprato un po di cose un po di cose nuove diciamo e tra l'altro c'era anche francesco con noi quindi ha fatto un sacco di spese anche lui per se stesso quindi ti faccio vedere abbiamo preso due fan e e due è stata zero poi ho preso questi c'è al cuore di nocciola senza zuccheri francesco si è preso i cirio i doritos e tre pacchetti limitato uno se l'ha già mangiato poi ho preso il cioccolato fondente al 70 per cento abbiamo preso in guasa fix se di girasole poi ho preso il ragù bolognum e giovanni rana ragù vegetale che era in offerta costa un euro e sessanta perché in scadenza quindi lo consumiamo subito poi abbiamo preso una confezione enorme di filadelfia poi francesco si è preso anche questa bibita qua energy drink burn poi abbiamo preso le mele con prosciutto sotto tortelli con pecorino romano burrata e pistacchi poi sempre per francesco si è preso questa focaccia ripiena cotto mozzarella poi abbiamo preso due confezioni di salsiccia vegetariana poi francesco si è preso il sacco di salmone salmone crudo dolcificante poi ho preso la crema di arachidi senza zuccheri aggiunti e francesco si è preso questa l'insalata spec e brie poi ha voluto questi nuggets di pollo le birbe che ovviamente dovrò congelare un sacchettini perché sono 800 tre di questi gamberi code di mazzam colle tropicali anche questa è una offerta al 50 per cento perché scadono tra due giorni abbiamo preso tre miller mix questo yogurt al gusto chantilly granella di biscotti al cioccolato e questo invece yogurt bianco più nocciolo e cioccolato poi abbiamo preso il caffè accortato una burrata di barrette proteiche e l'ultima cosa che ha preso francesco le fruttelle e basta questo è tutto sarà un video brevissimo ma ci tenevo farvi vedere la spesa quindi niente magari lo metto un giorno in cui c'è già il blog così tipo video in più quindi niente vi saluto ringrazio tantissimo di aver visto questo video e ci vediamo al prossimo ciao